Carissimi concittadini, è con grande piacere che oggi presentiamo la mia candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Vogliamo una città sicura e accogliente dove chiunque vorrebbe poter vivere e crescere i propri figli. Vogliamo lavorare per ridare la giusta dignità ai nostri giovani, ai nostri anziani, alle nostre famiglie così come alla nostra città. Il confine con la vicina Francia deve tornare ad essere una grandissima opportunità. La nostra amministrazione lavorerà per dare un nuovo valore alle bellezze del nostro territorio, dalla costa all'entroterra. Vogliamo che le frazioni tornino ad essere protagoniste della vita cittadina. Vogliamo che Ventimiglia torni ad essere una città internazionale e vogliamo valorizzare al massimo il nostro patrimonio storico e culturale che per troppo tempo è stato trascurato. Vogliamo che Ventimiglia torni ad essere la città in cui tutti vorrebbero vivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.